ok ciao a tutti ragazzi e benvenuti a casa mia io sono Dore Caliendo se mi sentite male perché la qualità audio di google glass non è che sia eccezionale in questo video vorrei farvi vedere un'applicazione davvero molto interessante una delle nuove applicazioni uscite da poco da quando i google glass sono stati aggiornati alla versione x18.1 che ha anticipato l'ingresso di occhiali di google in europa è un'applicazione interessante molto divertente che permette praticamente di riconoscere una canzone che si sta ascoltando e di vedere il testo in tempo reale sul piccolo display dei google glass è un po complicato farvelo capire spero di riuscire a farvelo vedere bene con il montaggio che farò in post produzione detto questo avviamo spotify e accendiamo subito la riproduzione di una playlist che ho fatto io che è questa qua top 50 italia per sentire per riconoscere la canzone e avere il testo funziona così bisogna dare il comando google glass dire il testo della canzone con con l'artista e poi tappare sul touchpad sulla destra per sincronizzarlo vi farò vedere meglio come si fa abbiamo un'applicazione abbiamo una canzone scusatemi ok adesso del comando google glass ok glass learn a song a sky full of stars coldplay adesso sta cercando la canzone e dopo averla trovata inizierà la riproduzione del testo per sincronizzarla bisogna tappare sul touchpad sulla destra e attivare il riconoscimento della canzone ecco in questo modo potete vedere che il testo della canzone è sincronizzato proprio con la canzone che sto ascoltando proprio con la riproduzione bene ragazzi questo è tutto sono da regolento spero che questo video vi sia stato non dico utile quanto interessante per scoprire una delle piccole potenzialità di questi occhiali di google che si spera arrivino a breve anche in italia un abbraccio grazie a tutti